Ciao a tutti, oggi continuiamo il nostro excursus sugli esercizi di sbarra a terra con dei semplici batmonte en dieu. Sappiamo che i batmonte en dieu nella sbarra a terra li possiamo fare distesi in questo modo oppure in questo modo con la schiena dritta. Anche questo sembrerebbe banalissimo, alzo e abbasso la gamba e li finisce. Invece assolutamente no. Un'indicazione per farli distesi e quelli sì di stendersi per terra e di cercare di allungare e far aderire il più possibile la schiena al pavimento senza contrarlo, ma comunque fatela aderire e attenzione alle spalle che non succeda questa. Anche le spalle devono essere ben aperte e ben rivolte verso il pavimento, ok? E sentite veramente il movimento dal centro, dal centro. Niente questa cosa qua, ma cercate di far aderire in modo simmetrico la schiena al pavimento. Quindi non è questo, ma tutte e due le parti della schiena devono aderire. Per cui se c'è chi ha una scogliosi, quindi una rotazione da una parte o dall'altra, deve cercare veramente di far aderire la parte che invece risulta più sollevata. Questo è importante e aiuta molto per raddrizzarsi. Ma se noi facciamo l'esercizio in questo modo, così, semplicemente facendo questo, quello che non deve succedere è questa cosa qua, che è classica, no? Quindi allunghiamo la schiena, sentiamo veramente il bacino. Cerchiamo di sentire il bacino, coccige, ischi e da questo bacino e da questi, da le anche, ecco le gambe devono essere lunghissime. Per cui io più tiro sulla schiena, più allungo la schiena e più allungano le gambe. Più il bacino è impostato dritto, è tenuto e mantenuto anche, sento il coccige che cade a picco sul pavimento e più la mia schiena sarà impostata. Se io ho il bacino storto, è chiaro che naturalmente la mia schiena sarà da questa parte o se ho il bacino retroverso, è chiaro che la schiena sarà così. Quindi tutto, anche per terra, parte dal bacino. Imposto il bacino, sento il bacino lungo, sento le anche libere, non le contraggole, sento libero e quindi faccio proprio un lavoro di impostazione chiara. Naturalmente i muscoli, dopo che io l'ho messo in posizione, il bacino devono lavorare. Se riusciamo proprio a cercare di attivarli, di modo che l'en d'or viene fuori. E salgo con il basmento en dieu. Vedete, se io ho il bacino ben impostato dritto, non posso fare questo, perché le gambe proprio non possono andare tantissimo in alto, forse con il tempo, ma naturalmente è un lavoro di qualità minimale, però che mi imposta tutta una situazione. Mi fa lavorare tantissimo gli addominali, mi fa lavorare tantissimo i dorsali. Posso cominciare a pensare alle scapole. Le scapole veramente devono essere, devono fare questo lavoro qua. Tanto più io faccio questo lavoro qua con le scapole, tanto più io riesco a rialzare questa parte, a piattire la pancia, non perché la tiro dentro, perché i muscoli addominali si attivano, tutta la parete addominale, pelvica si attiva, ed ecco che faccio un lavoro globale. Non devo assolutamente irrigidire il collo, anzi la bocca lasciate, diciamo, semi non aperta, ma comunque morbida e respiro chiaramente. Questo per, se ne fate anche 3-4, credetemi, è faticoso, studate, perché mi concentro con tutto il corpo. Chiaramente la gamba lunga, la punta stesa, ma tutto viene di conseguenza dal bacino e dall'impostazione poi degli addominali, della pancia e delle scapole. Quindi la prossima volta, sia che facciate braccia qua, braccia qua, è uguale come situazione. Anzi, qua forse sento ancora di più le scapole, ma qui chiaramente è più difficile, qui ancora più difficile. Quindi tira tutto quanto il corpo, per cui vedete come un esercizio semplice, che fanno anche i bambini, diventa un esercizio interessante che attiva tutta la muscolatura. Provate! E se il video ti è piaciuto e ti è stato utile per la tua tecnica, la tua crescita personale, lo sviluppo del tuo corpo, allora aiutami anche tu. Metti mi piace, attiva la campanella, condividi e naturalmente iscriviti al canale. Se vuoi altre lezioni di danza, puoi andare sulla nostra piattaforma danzaonline.it dove troverai tantissimi video e musiche da scaricare. Se vuoi notizie invece sui concorsi e sull'attività della compagnia BalletX, vai su balletX.com per cui ti aspettiamo! Ciao!